salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo vrc 10 ci troviamo nel nuovo rally l'acropolis rally ci troviamo ad affrontare lo shutdown e la la prima tappa in modo da vedere un pochettino di che cosa si tratta questo rally nello scorso appuntamento abbiamo anche avuto un primo contatto con la Volkswagen se non ricordo male e aveva da offrirci eventualmente un contratto quindi dobbiamo cercare di fare una buona prestazione per appunto invogliarli a concretizzare eventualmente l'offerta sperando che riusciamo anche a cambiare categoria in modo da andare a vedere qualcos'altro invece di rimanere comunque qui con il monomarca diciamo della della Ford quindi non perdiamo tempo andiamoci subito nello shutdown in cui come sempre è un'anteprima di quello che ci aspetta non vale per la classifera nient'altro però ci dà a disposizione la possibilità di avere 4 set di gomme in più rispetto a quelle che avremmo quindi va benissimo così ovviamente i rischi sono quelli magari di dare dei danni alla vettora e quindi partire già con un po' di penalità allora le gomme sono ok al 100% quindi direi di incominciare ci mettiamo a board ok andrà tutto con la terra guarda uh era di là aspetta si è svegliato lato e fortuna non sono andato a sbattere sul muretto uh 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 guarda stiamo bene però ricordandomi quel passaggio quando poi lo troverò nella tappa vera e propria e due pacco di gente ai bordi e altro interno in sinistra 4 corta in destra 4 chiude roccia interna in sinistra 6 50 più destra 3 non tagliare dossi 80 dossi in sinistra 3 eh sarà complicata ste le tappe eh in sinistra 4 tieni destra 4 corta apri avvallamenti in destra 2 media ah buona riguardo questa non vale ovviamente per la roccia interna chiude il 50 per la classe per la dossi di lo spray generale ma appunto è un modo per avere un'anteprima di quello che ci aspetterà anche perché questo è un pezzetto della tappa forse proprio della 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 prima di tappa tra l'altro qui c'è un cavolo ritornante pauroso sulla sinistra quindi qua starà molto molto complicato ora non so se si riparte da da qui ok dalla stazione delle delle riparazioni per fortuna perché qua già c'è da riparare qualcosina nella nostra macchina che non riusciamo ovviamente a farci una tappa senza far danni allora direi di incominciare subito tanto abbiamo la prima sessione poi di nuovo qui nelle riparazioni e poi ci saranno tre eh tappe una di seguito all'altro che terminerà con quella di notte e qua ci sarà ovviamente da arrivarci con i fari integri quindi andiamoci effettivamente a vedere la prima tappa tappa di quasi sette chilometri c'è quel pezzo là che tutti i tornanti sarà interessante quasi sul finale insomma quindi sicuramente terra cento per cento terra questo penso che non l'ho mai fatto in verità mi sa di nuovo tra l'altro sti burroni laterali bisogna restarci attenzione se finisce di sotto e si perde veramente molto molto tempo quindi concentriamoci un attimo cerchiamo di fare una buona tappa o perlomeno per partire bene in sinistra 3 corta non tagliare attenzione perché è molto stretta ovviamente la la carreggiata qui a stare abbastanza puliti non necessariamente a tavoletta per tutto il tempo possiamo pure farla scorrere l'importante è appunto evitare di far danni e destra 4 chiude in sinistra 5 chiude 30 che spiazzo enorme destra 6 frena in sinistra 5 corta in destra 4 in sinistra 3 corta 200 che ho occhio e stiamo a ritardo di 8 secondi insomma sono un bel po' dopo queste tappe così di attenzione per la vociata non so proprio più in massimo per l'occhio in destra 6 corta pesci canna tornante terra rossa qui pittura in sinistra 4 non tagliare in destra 4 stringe in sinistra 5 30 torna o di stigere qui che perché c'hai tutti eh taglia poco ma non così c'hai tutte ste rocce ai borbi che è in casino pesanto con te ho atteso la vettura in sinistra 5 corta 30 attenzione tornante destro 30 ok già meglio in destra 4 corta in destra 5 corta torni di secondi mamma mia stiamo veramente stiamo veramente lenti e speriamo di di migliorare perché insomma se tutte così difficile riusciamo a fare una buona prestazione però viaggio dai così questa non mi pare di una bella mai fatta alla fine tra una cosa e l'altra le tappe sono sempre quelle per qua ma non l'ho mai fatto giusto sasso giusto in mezzo ecco oh cazzo darò pure la penemità dannazione questi sono i tormenti che abbiamo visto nella mappa sicuro in salita forse no no esatto no perché erano erano un po' di più e vabbè ma ora 21 secondi ma è tiziato dai 5 secondi di penalità che sono cascati e sotto dannazione e dai e te credo eravamo nel burrone tra te c'è indicazioni per il burrone che cazzo stavano fa cosa ha strada altri 5 secondi dannazione io ho impuntato la macchina cosa ho preso è malissimo questa questa tappa ci siamo presentati proprio nel peggiore dei modi sinistra 4 chiudo 2 in destra piena sinistra 4 in destra 5 media sorbotta ma ora piove giusto beh non passe manca niente no ah vai poi le pioggia 52 secondi sarei felice se in un settore riusciamo a guadagnare qualcosina ok ok e siamo prossimi all'altra 4 a me sa che erano proprio quelli i tornanti che avevano questo mi sembravano molto più e infatti molti di più ma c'erano solo due quelli che abbiamo fatto però vabbè fai così insomma ovviamente una tempesta se sta a far qua ok finisce questa tappa troppo troppo sofferta veramente difficile terminiamo ben quindicesima posizione penultimi sarà tosta recuperare se so tutte così sarà veramente veramente tosta allora vediamo un attimo torniamo nella zona riparazione qua la vettura di botte è una belle che prese ma rispettano 92% quindi speriamo che riusciamo a mantenerli così e abbiamo anche riparata la carrozzeria quindi insomma ottimo per quanto riguarda invece le rome le andiamo a cambiare totalmente visto che dobbiamo andare a farci un trittico di di tappe allora ci aspetta una da 7 km un'altra quasi 7 km sono tutte più o meno così 697 695 696 non ci da pioggia ma ci da ovviamente la notte nell'ultima tappa quindi andiamo subito ragazzi io come è contorta è tutta strana sta tappa questa è quella di prima però versione forse più lunga quella che abbiamo fatto dello shutdown sì sì esatto l'anteprima pure qua dell'immagine è la stessa quindi ci ha dato appunto un'anteprima di quello che ci aspetta però insomma sarà sicuramente tosta allora andiamoci subito voglio provare un attimo così se magari è peggio o meglio via l'auto inizio quando siamo nella nella tappa notturna però mi da un visuale freno assolutamente aspetta niente è una visuale migliore insomma 4 sinistra 3 stringi non tagliare in destra 2 taglia e sinistra 3 chiude in destra 4 e e sinistra 3 chiude non tagliare e destra 4 non tagliare stringi cazzo la D peppa sinistra 3 chiude in destra piena cazzo cazzo la D sinistra 3 chiude in destra piena attenzione roccia interna sinistra 5 chiude in destra 4 corta 50 restra 3 stringi 30 ok sta 3 stringi 2 secondi di svantaggio retornante ok buono eh taglia poco proprio proprio sbagliato questo altro che taglia poco oh uh guarda stavo finito sotto andiamo qua uh ah no no cazzo 5 secondi di penalità dannazione c'eravamo solo 2 c'è voleva però che qua con la terra prende e scivola molto quindi una volta che arrivi lungo è difficile che riusci a recuperarla la macchina sinistra 1 in sinistra destra 2 e sinistra 3 ok ok e sinistra 2 tieni destra 1 taglia poco e sinistra 2 non so immaginare col volante quanto sia impegnativo sta perso destra 3 chiude in sinistra 3 corta chiude 2 stringe 30 vediamo un attimo intertempo ma ovviamente anche qua è 9 secondi abbiamo i 5 di penalità più i 2 che ci portavamo dal primo settore non poteva essere meglio di così questa tappa sarà un crescendo di di ritardi insomma perché comunque non riesco a essere incisivo troppe curve di seguito e veramente in casino e qua era come prima non mi sbaglio questa è la parte dello shutdown se mi ricordasse che poi c'era quel tornante strettissimo in salida dove poi terminava appunto la tappa dello shutdown e albero interno in sinistra 4 corta in destra 4 chiude roccia interna in sinistra 6 50 destra 3 non tagliare dossi 80 bene qua oh 6 e 9 siamo riusciti a recuperare qualcosina attenzione attenzione l'avevo detto che sarei stato contento così in un settore riuscivamo a recuperare qualcosina sinistra 5 media roccia interna chiude 50 destra 2 taglia poco 70 attenzione incrocio torrente stretto sinistro e destra 2 corta cazzo sono arrivato lunghissimo vabbè 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 ma magari ci dice bene che anche i nostri avversari hanno fatto degli errori oh cazzo era dall'altra parte no porca trato proprio ne ho dritto ero convinto questo è là e niente vanificate anche eventuali altri recuperi che eravamo riusciti a fare qua chiato adesso seconda e vabbè abbiamo recuperato tutto perché se ci ha dato 6 secondi di panità con cioè 6 secondi di ritardo con i 5 secondi di panità probabilmente c'eravamo solo un secondo di ritardo è chiaro abbiamo fatto un bel settore con il fatto che è casino allora ricordami più che altro quello che mi dice giustamente il navigatore sennò che ce l'ha fa e destra 3 stringe in sinistra 4 non tagliare in destra 5 apri stiamo di arrivare al traguardo con un troppo ritardo e riusciamo a guadagnare anche qualche posizione qua beh poi fai ricordate tutte queste cose vado veramente a occhio oltre che a ricordare quello che mi dice lui eccoci un inferno praticamente un inferno ragazzi oh terminiamo in quarta posizione ma al grado tutto ma al grado tutto in quarta posizione eh beh come se avessimo vinto veramente ok andiamo in quella successiva sono quasi 7 km anche qui è il contrario di quella che abbiamo fatto prima anfissa reverse quindi sì effettivamente è il contrario con i tornanti che abbiamo visti che sembravano decisamente di più credo che abbia pure mezzo piovuto perché insomma è un po' così questa zona con la sabbia rossa è particolare allora per quanto riguarda le gomme l'anteriore sono belle provate magari le andiamo poi a cambiare successivamente vediamo un po' quanto si consumano adesso è così però da averci fare gli integri perché dopo c'è la tappa quella notturna che è un po' più complicato qua il prossimo obiettivo è quella di terminare una tappa con 0 penalità perché insomma ogni tappa siamo usciti più e più volte fuori l'altracciato quindi riuscire a finirla senza penalità sarebbe il top voglio provare anche un'altra visuale quella lì sul cruscotto con questa però questa è pure regge tutti sti saliscendi ok seconda 7 intanto di dislivello più avianta avianta presa piena questa fase qua magari non è il caso di fare ucchio 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 nel caso di fare i propri mentre stiamo tappa proprio e qua sti i fossati ok stiamo per andare a terminare anche il secondo settore sicuramente qualcosa abbiamo perso in sinistra 3 in destra 3 in destra in destra siamo praticamente fermati e su cima sinistra 4 chiude e sinistra 3 chiude in destra 4 media però mi ha detto che gli errori facciamo solo no insomma vabbè invece no attenzione attraverso 6 secondi che qua entriamo nella parte con la sabbia rossa tornante sinistro e arrivano i tornanti ok però che in discesa vengono meglio che in salita dai 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 abbiamo di prestare un po' più attenzione anche perché nella scorsa tappa eravamo riusci a recuperare in alcuni segmenti quindi non è impossibile ecco sinistra 1 lunga è praticamente un tornante da un'azione sinistra 5 corta indestra 6 tieni duro che botta non ci ha scaraventato di sotto abbiamo recuperato pure qualcosina attenzione ok è così destra 4 destra 5 media chiude in sinistra 3 corta non tagliare e destra 5 in destra 4 corta oh no cadere e niente cazzarola in sinistra 3 abbiamo sbagliato un attimo magari di lungo ed ecco finita tutto selettiva sta sta tappa passimo tornante qui 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 sulla strada qui e niente dai abbiamo pure fratana gomma cazzo ho preso il carto di limpie praticamente eh se ne fermo pure a sostituire finita stiamo così finché regge stiamo più piano però 10 secondi peccato peccato eh da età che manca un chilometro vediamo per forza di cosa resiste questa gomma qua in sinistra in sinistra ok destra 3 tieni sinistra 2 porta non tagliare ok destra 150 bene e non ci abbiamo direzione abilità adesso è un casino già complicata con tutte e quattro le ruote con tre perché finché c'è sta la ruota se no sennò poi di stanno cerchio praticamente ok ok occhio 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 dai in qualche modo perché è veramente veramente tosta ok facciamo anche l'ultima e questa è notturna mamma mia già dall'anteprima è in casotto questa è more persa di una tappa che abbiamo già fatto ma ma ta ricorda sarà dura sicuro andiamo piano tranquilli cerchiamo di portare a casa un buon risultato ripeto sarebbe buono già arrivare senza andare fuori pista perché praticamente noi affamo allora le commele credo le abbia cambiate no cambiamole assolutamente adesso arrivate al 63% questa cosa di la sabbia le consuma bestia ste gomme ok mettiamoci così via 30 destra 4 corta tieni sinistra 4 corta in destra 3 corta 30 destra 3 chiude in sinistra 5 chiude 3 in destra 4 chiude 2 roccia interna non tagliare attenzione sinistra 4 20 sinistra 4 madonna è tutto un saliscendere cioè da così è pure più più amplificato però non soffiate il mar di mare ragazzi perché se no qua uuuu chi l'ho preso una roccia in destra 3 stringe stai a destra in sinistra 3 e sinistra 2 discesa dai 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 sta da papà è lunghissima la nazione in destra piena attenzione su cima destra 5 corta roccia interna in sinistra 4 corta freno pesante perché fino a mo' che c'era tutto pieno di roccia la nazione dai così dai sinistra 4 corta freno pesante e tornante sinistro soltanto un secondo e tre pensavo peggio in verità occhio che altra rota no se sono incastrato di qualche parte no mi sono incastrato dai ma dove cazzo se siamo incastrati scusi dai dai non è possibile vabbè 70 vabbè niente niente scusate ragazzi concedetemi un riavvio perché non è possibile se siamo incastrati abbiamo perso 70.000 ore poi no aspetta fefefe aspetta 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 ricomincia ma se ricomincia devo cambiare pure le gomme e vabbè no aspetta vabbè uno se lo siamo giocato ti ricomincia ma vabbè pensavo ripartissero come già sistemate invece no proprio da capo quindi vanno sistemate anche quelle vabbè cerchiamo di incastrarci di nuovo perché sennò è in casino nulla in destra 4 chiude 2 roccia interna non tagliare attenzione sinistra 4 20 e sinistra 4 in destra 4 non tagliare in destra 4 ragazzi devi concentrarti moltissimo attenzione chiude 2 e sinistra 2 chiude c'è un attimo di di respiro poi con le rocce hai lati gli avvallamenti il fatto che stai sulla terra che appena arrivi un attimino lungo scivoli ed è finita praticamente perché poi vai vai di sotto ok facciamo così sinistra 4 corta freno pesante e tornato sinistro di ristrura a 7 decimi vabbè questo perché avevamo occhio è quello di prima e questo è quello di prima perché sto pezzo l'avevamo già fatto quindi un pochettino lo sapevo cosa mi aspettava da qui in poi per via l'avremmo sapevo perché l'avevamo già fatta ma è sottalmente io tutte strane tutte d'eseguito difficili come fai a ricordarsene ok ok sì questo è il pezzo del shutdown o quel cavolo di dormante ma lo ricordo forse no 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 non eravamo non eravamo asciugando questi vabbè concentriamoci con questi cavoli anche se fosse insomma e sinistra 4 in destra 4 taglia sinistra 4 taglia in destra 3 taglia 80 devo ancora arrivare il secondo intertempo quello dovrebbe essere molto indicativo per noi perché comunque è abbastanza lungo il settore un secondo e due abbiamo incrementato un pochettino il nostro vantaggio ma siamo più o meno a metà della della tappa quindi è tutt'altro che che è finita e sinistra 4 taglia e destra sinistra 6 incrocio e sinistra 5 taglia in destra 400 attenzione sinistra 4 corta in sinistra 1 ok in destra piena chiude 2 30 così così ma in sinistra 3 apre e sinistra 4 frena uuu e poi questa va finita preso tornante e questa è la visuale migliore per me sinistra 3 tieni sinistra 3 stringi però dentro è tutta un'altra cosa ovviamente perfetto destra 1 con sinistra 1 come gli ho perso quarkosina un secondino quasi dai così cerchiamo di fare un po' abbiazzamento perché perlomeno riusciamo a risalire un po' la anche la classifica generale che non sarebbe affatto male perché siamo per il momento a metà classifica se non ne approfittiamo appena possiamo è in casotto anche qua c'ho sta mania di tagliare troppo il problema è che ma qua è pieno di rocce quindi non te lo puoi permettere se non la paghi a caro prezzo infatti stanno da dei botte paurosi alla vittura peccato perché questo prezzo l'avevamo iniziato a fare bene poi ho fatto queste cacchiate e ho perso tempo ok ritornanti discesa ce la vengono comunque abbastanza bene abbiamo ricoverato qualcosina veramente tirata sta tappa occhio dai siamo entrati nell'ultimo settore meno di un chilometro al traquarto occhio va tutte strette ora occhio no non voglio distruggere la macchina grazie adesso adesso proprio no sinistra 5 corta in destra 4 chiude e destra 5 corta ma mi a me vedendo qui i cartelloni ho pensato che sarebbe simulata una botta paurosa in destra piena e sinistra piena media la spigna buato ma è l'ultimo pezzo della tappa eccola mamma mia 5 minuti 57 e finiamo con 12 millesimi dal secondo mamma mia ragazzi veramente al foto finish per quello stavo a spingere tra l'altro qua le squadra vanno forte a quanto pare vanno veramente in alto c'è davoswagen che ci ha contattati sta insomma non proprio benissimo comunque dai non è andata male andiamo a vederci classifica generale che ci porta al sesto posto stiamo belli lontani 43 secondi sono veramente tanti però perlomeno qui fino al quarto posto stiamo abbastanza attaccati poi c'è sto strappo con il terzo posto che è già un po' più impegnativo da colmare però vediamo dai delle buone prestazioni magari come quella di oggi può aiutarci magari c'è anche un po' di fiducia allora andiamoci a riparare la vettura perché insomma già ho visto che nella prossima c'è da pioggia pioggia e nuvoloso quindi sarà abbastanza complicata cambiamo anche tutte le gomme più quella di scorta e direi ragazzi che ci possiamo anche salutare qui per questo appuntamento io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo vi invito se vi fa piacere lasciarmi un mi piace un commentino iscrivervi al canale se non l'avete fatto in descrizione trovate tutti i miei sociali server discord la mia attrezzatura e inoltre a destra la like vi riporta la playlist del titolo se avete saltato qualche appuntamento di nuovo vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao